ciao a tutti e bentornati sul mio canale ho fatto il dp mystery posso dire che mi sono divertita un sacco cioè non capivo che cosa fosse avevo macchie colorate in giro poi rosso poi giallo cos'è sta roba finalmente ho capito che erano i personaggi del raleone cioè no troppo carino mi sono divertita veramente tanto a fare un misteri e non sarà sicuramente l'ultimo che farò ogni tanto così giusto per cambiare un po e avere un po di sorpresa penso proprio che mi dedicherò ai misteri la qualità tra l'altro non era niente male i diamantini molto buoni e se guardate anche nelle zone bianche durante le riprese così se ci fate caso vedrete che non ci sono nemmeno le fessure tra le varie file di diamanti sono rimasta veramente stupita forse non erano i diamanti migliori che abbia visto nella mia vita però comunque erano molto buoni anche la resa globale del dp è bello insomma è venuto bene l'unico piccolo difetto è che ci sono delle file di diamanti che un po si alzano perché c'erano delle pieghette sulla tela se si spingono con il rullo si appiattiscono però dopo un totto comunque si rialzano nuovamente però incorniciandolo secondo me si tengono ben ferme e quindi non si dovrebbe notare tantissimo quindi l'unico difetto diciamo che è quello per il resto invece sono veramente molto soddisfatta voi avete mai fatto un misteri adesso mi lancio con questa nuova tipologia di dp se ne avete fatti fatemelo sapere quindi i commenti e vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo video ciao ciao